Sì che siamo pronti, ma tu quanto ci metti? Beh, con la mia scorciatoia 16 minuti. Ok, sbrigati. Ciao. Ciao. Stabilità. Lamiere zincane. Tenuta di strada. Tempo. Sicuramente. Avanti. Allora. Un traffico. Sogna anche tu con le più belle canzoni di Dennis Russo. Raccolte in un unico compattimento. I più grandi successi di Dennis Russo. In una compilation. Arcade. L'extravergine in Toscana è un'arte. Carapelli la conosce da cento anni. Carapelli, Firenze. Dalla buona terra, alla buona tavola. C'è una macchia nel vostro sorriso. Avete i denti macchiati da caffè, tè o tabacco? Provate subito Denivit, la prima crema dentifricia antimacchia. Con la sua formula innovativa al fluoro, Denivit attacca le macchie senza intaccare lo smalto. Vita nuova per i vostri denti con Denivit. Denivit attacca le macchie, protegge il sorriso. Purissimo cioccolato fuori. Delizioso gelato dentro. Sono le cose più semplici, quelle con più gusto. Semplice, eppure Magnum. Per il tuo corpo, Neutro Venus, nuovo bagnoschiuma extra delicato all'olio di mandorle dolci. Neutro Venus, dolcezza e tanta protezione in più. Festa di primavera alla Standa. Ogni 100.000 lire di spesa nei reparti e abbigliamento, Standa ti offre un bellissimo dono a tua scelta. Perciò, se spendi 300.000 lire, non solo vesti tutta la famiglia, ma tutti avranno diritto a un dono. Un profumo per te. Una bottiglia di Johnny Walker per tuo marito. E per tuo figlio, Spike Bull, il nuovo gioco dell'estate. Standa, il valore dei soldi. In TV sorrisi e canzoni di questa settimana, Luca Barbarossa, una mamma per amica, gran premio della TV, i presentatori e l'ultima scheda per votare e vincere. Torna sugli schermi, bianca neve restaurata. Insieme a voi cercheremo di farvi gattire tutte le famiglie italiane. Alla Gran Festa Italiana. A presto! Ciao! Gran Festa Italiana, dal 22 aprile alle 20.30 su Rete4.